L'estetica nasce come scienza moderna e nasce in età 700 ed è il segno di una scansione del moderno. La sensibilità, l'immaginazione che erano altro dalla filosofia ne si coglie il senso profondo, la corporeità, la dimensione sensoriale come dimensione di conoscenza del mondo. L'estetica nasce come intreccio di stanze diverse, c'è la grande esperienza del viaggio, il grand tour, pensate al grand tour, c'è l'estetica kantiana, la crel fra gli antichi e moderni. Abbiamo una complessità di elementi che poi vanno a solidificarsi, a compattarsi e vanno a determinare il segno proprio dell'estetica. Per usare un termine beniamignano, il nostro sentire è innervato dalle tecnologie. Ecco, l'estetica prende atto di tutto questo. È sapere e la possibilità di mettere in campo strategie di sapere che siano in grado di dare ragione del nostro tempo.